Gran premio d'Italia del 1951. È la corsa più importante della stagione. Ascari è in lotta con Fangio non solo per la vittoria in gara, ma anche per il titolo iridato. È una vertiginosa cavalcata a quasi 190 all'ora di media. Sul mitico anello di Monza, Ascari prende il comando e non lo mollerà più. Nella sintesi filmata, le auto sembrano sospese sulla pista come in un volo librato. Momento drammatico e box per il rifornimento di Ascari al 35esimo giro. Non era acqua ma benzina. Incurante del pericolo, il pilota della Ferrari riparte e farà su alla corsa. Fangio diceva di Alberto Ascari, quando corre in testa diventa imprendibile. E con la Ferrari, Ascari sarà due volte campione del mondo.